L'ANAS denuncia l'impresa esecutrice dei lavori per truffa aggravata, ecco perché la E45 sarebbe ancora un colabrodo. Così l'ANAS risponde in una intervista pubblicata in rete dal giornale dell'Umbria alle innumerevoli polemiche piuttosto che alla notizia dell'apertura dell'inchiesta da parte della procura retina. L'ANAS, leggiamo testualmente, a tutela del pubblico interesse, ha rescisso in anticipo il contratto con l'impresa esecutrice, avendo tempestivamente constatato gravi inadempimenti da parte della stessa e avendo accertato e contestato in via formale fin dall'inizio del 2013 l'uso di materiali di scarsa qualità. Per questi motivi ha anche presentato un atto di denuncia querela contro l'impresa appaltatrice per truffa aggravata, frode in pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e falso. Così dunque l'ANAS spiega il motivo per cui, nonostante i 20 milioni di euro di finanziamento, la E45 continua a essere in quelle condizioni. A partire poi dalla prossima primavera saranno avviati numerosi interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'ANAS stessa. Quindi le buche e la scarsa, per non dire inesistente, manutenzione della sede stradale non sarebbero da imputare ad ANAS che, anzi, si è tutelata nelle sedi opportune contro l'impresa esecutrice dei lavori.